buongiorno a tutti ragazzi eh già non è il solito gioco allora io ho questo gioco God of War 3 l'ho già finito tipo 4 volte ma oggi voglio provarlo caos sarà un genocidio per me ma sentirete cose mai sentite che gli umani non sentiranno mai ma voglio provarlo ok eh vabbè ora di arrivare c'è quel punto di voglia che trip siamo nati dalla vittoria è tutto buio non si ok fin qua ci siamo solto dalle profondità del Gimiteri radicato in un fiume di anime anime la nostra montagna è merda da Thanos insieme ad essa selevò anche il grande potere degli olimpici ma perché ciclo che ammazzano gente a caso ma cos'è a caso bastonano gente e buh ma assolta paradigma assoluto di forza e potere supremo si si perché ci vai ci vai sparato sulla roccia che ti cani in faccia è ovvio che ti prende in questo giorno quel potere sarà messo alla prova un mortale Kratos sta cercando come mi hai chiamato mortale che dirò dare se è un po' chi è mortale adesso o poi scusa ma perché mortali se anche loro possono morire ci schiereremo che si che si che si che si che si che si e io annienterò questa terribile piaga l'olimpo prevarrà convinto tu ok questo deve essere Posidone credo questo Hermes vabbè Zeus ovvio e e e ah beh e questo chi cavolo è questo carissimo pare più romano che greco ah Elio giusto contro ogni legge di gravità un gramma il salto non credi olimpo olimpo ma che cazzo ci fa ercole con l'olimpo cioè che cavolo vuole lui sono tutti che mi odiano qua solo perché sono bianco e la spalla volevo usare la spalla non quella era senza quella non vinciamo ok 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 mi ricordiamo che ci avessimo in caos e le quali prendiamo come cazzo ah giusto non c'è per scrivere ne mi dimentico sono abituato agli comandi di dark cosa se è vero ormai sono abituato a quello il guano sembra difficile e devo abituarmi un po perché vabbè non è difficile ormai no questa cosa che hanno aggiunto però la riete è molto utile da usare fai un bordello con quella uccidi tutti tutti puoi andare si li ha tirato dosso mezza montagna in pratica ok ok questo è un salto un colpo o morto hai sbloccato la nuova skin non credo che ci sia rimasto male e che 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 cosa cavolo ha così appresi non potrà prendere qualcun altro ma noi no c'è quasi tutti cazzo guarda eh avete visto sullo spondo oh proprio utilissimo mi serve proprio il soffio di un gigante per togliere le fiamme vero ho i nemici dietro nemici dietro ovviamente mi lasciano fare ok ora posso uccidervi sicché sono abituato a difficoltà ben peggiore però non ho messo che non sono avviene non è più un nemico unico a tenerti dopo fanno fanno un poco su di te vengono tutti su di te a circondarti come un ok ah cosa vuol dire ma sto solo non possiamo aspettare c'è anche quello se guardiamo beh hanno cambiato parecchie cose dai vecchi God of War per fortuna cioè per fortuna e per sfortuna cioè è cambiato in bene ma anche in banca ah un cavallo fatto di acqua e roccia ok 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 come cazzo si schiva l'abbia schivato non si capisce ok io ho capito 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 no invece non so scherzando devi in teoria si devi imparare un po' le mosse qua io l'ho fatto così tante volte questo che ormai che cazzo sta facendo sta vanno indietro davanti indietro ecco è già un po' già qua è già un po' più complicato perché siamo a destra no stiamo da che parte colpisce da che parte colpisce ecco dall'altra parte ora la prima volta non sapete quanto ne ho dette perché non capivo un cazzo in questa modalità no l'ho già provata questa modalità qua ma sono arrivato ho fatto tipo mezz'ora basta mi sono roto il cazzo sono arrivato a malapena dopo sto boss qua che non è neanche un boss è un mini boss è un mini boss in pratica oh sono andavanti senza prendere un coico è un record in questa modalità dare souls fa bene ormai sono insensibile sono abituato a quando ti ammazzano con due colpi al massimo ma dall'altra qua qua basta studiarti un po' le mosse poi devi non è che le tirino guarda ci mettono mezz'ora per dati un colpo qua ecco vedi fatto sposti dietro a sinistra ti danno il tempo di pensare vedi fatto e aspetta vabbè la prima volta magari ovvio non cominate mai sto gioco se avete in caos direttamente se no non finirete mai il gioco ok questa mi ha quasi colto di sorpresa quasi no devo darti il colpo di grazia oh ah ok 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 basta che state vicino o lontano guarda vicino 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 ok e fatto oh ma non creva mai questo ma non pensavo di aver sbagliato ancora quel getto là non è che ti ha amato in colpo eh io spero e mi sembra incredibilmente facile davvero ma non mi sto sforzando neanche un po' ok qua dovete stare attenti alle combinazioni e tasti che nei vecchi giochi erano tutti in un punto qua quadrato te lo mettono ah ora non per più smascellare quadrato te lo mettono a sinistra cerchio a destra è stato un casino sì no deve essere istintivo ok o che siamo solo l'olimpo in teoria infatti siamo solo l'olimpo sì sì se non mi serve il tutorial ormai lo conosco come le tasche ecco quello leade che tira giù un ah lo tira giù ho le bombe disforgenze stiamo andando avanti senza sapere dove ok sì sì sto arrivando ecco va ancora più giù attendi le reggeri ah no pensavo di averlo preso ah no ok ok l'avevo preso pensavo di essere ucciso perché non vedevo più niente ok è morto ora dobbiamo occuparci delle reggeri ecco mi ha preso come già morti ma sbaglio prima mi avevano colpito ma sei sicuro che è modalità caos ma perché che cavolo è una cazzata che misteriale mi aveva perculato una volta che metto che l'aveva finita in caos il boss finale e che era una cazzata io non riuscivo neanche a superare il suo livello momenti ovviamente prima che giocassi a dark souls vabbè non serve che leggiamo cosa c'era lì perché ti spiega la catena dell'equilibrio che è quello che tiene in ordine il mondo dei morti e il mondo dei vivi basta una lezione di cine di storia o di mitologia e che titano è questo? si ti fai fotter da uno con con una piga con due cavalli messi da in croce fai schifo veramente gli bastava uno schiaffo e vedi come cadeva ok anche ah ok ciò che il pulitone ci sta dando problemi tanto però tanti problemi ne riusciamo anzi ne stiamo andando giù non ce ne andando su e qua vabbè la vita è solo tutta qua c'è una porta e cosa c'è qua? questa è un centauro si un centauro ah vedi colpirmi stranoso eh qua è facile puoi anche spingere di colpi vieni qua vieni qua eh vedi eh anche i nemici sono un po' una rotura di paga eh si vabbè non è che siano così marcanti come difficoltà sono solo una spina nel fianco basta ok ora si bisogna sempre stare attenti alle combinazioni di tasti ora colpo di grazia si si potevi essere un po' meno trovento o no? mi esviscerato vabbè volevi colpirmi le spalle facile perché mettere i guerrieri così scarsi? ho ucciso due dai due dai che cavolo e mi aiutano ancora i bimbetti contro che non sono manco come maneggiare un'afia aspetta la tomba di aria il dio della guerra è caduto ah giusto si vabbè non vi dico niente per evitare spoiler potenziali quindi muoviti ecco qua ascensore è stato un bel ascensore è stato ho ancora spare rosse non so ancora cosa rappresentino non davvero tutto il gioco non si capisce cosa sono ah pensavo di fregarci ahio ok stai dando un problema va bene oh 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 cazzo ci ha presi ok ok questo non me l'aspettavo ok 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 ci stanno facendo difficili le cose e adesso si che mi spama sta combo qua mi stiamo facendo un cazzo un altro attento ecco no adesso fa la combo super ecco qua e veniva avanti e cercava di colpirci se noi fai la combo dai no ancora no eh ora dobbiamo fatto e dai che onda sta combo del cazzo appena in tempo destra e ora rimuovo bisogna tenere a mente sta roba io mi sono potuto fregare perché mi sono distratto si le robe sono abbastanza facili da comprendere ma ti distrai un attimo ti ammazza avanti quanto ci mette oh 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 eh ti sarebbe piaciuto indietro fa la combo si infatti ecco no 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 cosa sta facendo cosa sta facendo ah si vabbè è solito ok ok credo che possiamo colpire allora e cavolo non me lo aspettavo levitato per culo come fa cioè e para ste robe giganti con due spade messe lì si chiama che sono spade magiche ma ok credo che credo che l'abbiamo fatta un po' male credo dobbiamo fare la stessa seguenza di robe non posso non darmi un po' di vita perché sono messo male fare più come è fatto a non prendermi no niente non niente cavolo e ora fa anche il getto cavolo non so come evitarlo se l'abbiamo evitato ma non so eccolo eccolo no ecco ecco no ok è un altro combo tento mi aveva quasi preso dobbiamo stare devi stare un po' lontano perché se no mi prende mi ha preso cazzo quello toglie quando è che muori oh finalmente adesso adesso si che ti faccio male esatto ecco dritto nel cuore non vogliamo inferire noi vero ecco ancora più in fondo ora torno su sul coraggio ok un attimo di riposo ecco progressiamo e dove dove siamo siamo dentro Gaia ma dove precisamente eravamo nel collo qualcosa di simile boh ma andiamo a vedere sì R1 qua ah il cuore di Gaia ok è protetto ovviamente se no se no il 90% dei gioco il 90% delle volte il gioco sarebbe finito qui tutti a colpire il cuore fatto anche per nessun motivo allora questo pezzo di pietra dobbiamo spostarlo in pratica e se non lo facciamo osservate andiamo di sopra vai ecco cosa trovate l'acqua di Zeus è un oggetto che serviva che servira dopo quando avrete completato il gioco ah l'acquina cosa ah così adesso lo mettiamo qui fatto ora scaliamo qua e vediamo dove andiamo sembra tutto facile finora sì a parte il bosco che ci ha fregati perché ci hanno registrati un attimo ecco ci sono aspetta ci sono nemici qua dentro però l'ho fatto andare stiamo pur sempre dentro il cuore di Gaia avrebbero potuto tranquillamente distruggerlo oh credo sono tutti ah no adesso sono tutti vabbè pazienza e lancia quasi caduto ma proprio per romperlo ah anche qua ma sono dappertutto sono come sono come gli scharafaggi ora siamo siamo dove ah sulla testa ho finito ho finito di rompere questi cavalli quello che cazzo e questo cosa cazzo è si magari che pezzo di merda ha paura di uscire dal mare eh eh ha paura attenzione è questo strato di lanciare le magie non è che si è iniziata a fissare il vuoto insomma non è stato danni anche se onde si ok aspetta aspetta attenti che fa danni anche se si toglie io ho sperimentato sulla pelle questa eh cazzo no questa era difficile da evitare colpa mia di tutto adesso ah feriato come 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 ah così ecco qua ora è uno contro uno avviso aperto ecco qua attenti perché è pericoloso magari forse è facile eh visto fu serota attenti che qua è parecchio forte anche se aspetta adesso ricolpisce deve stare qua a fissarlo perché ci mette un mezz'ora visto palle palle difetto è la semplice combo 1 2 3 attenti che questo è forte mi arrampico sempre ecco questo pugno è sottovalutato di nuovo qua non ci prenderà mai mi ha fatto danno mi ha fatto danno sì ok è ancora qua fermi è mancato pochissimo per prendermi a me lo è che sta colpendo Gaia ma Gaia non sembra sembra che non 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 subisce niente cioè a me non mi sta colpendo a me non quando mi prende per la grandezza dell'Olimpo si potete creare più per il piacere di tutti come si facevano le magie no ci vediamo sì ma io non ero mai usate ora qua dobbiamo aspettare ancora che palle questo attacco è uno dei più noiosi di sempre osservate mezz'ora mezz'ora alla fine ti manca no no facile è un cazzo che cavolo uno due no 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 che cavolo ne ho di nuovo basta con questo attacco non beccherei mai nessuno uno uno si è fatto prendere da questo attacco uno ed entitemelo che che licenzio da qualunque posto lavoro oh ci prende aspetta allora fa poco danno ci prende pochissimo danno ok ci prendeva no che si ok ma lo sto attaccando non vale oh quando si muore quando si muore non è che pagarlo ecco oh finalmente può dobbiamo stare rapidi in testa vedete che distratto dai qua ecco 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 qua colpo di testa dai che ancora è stardito ti apro il cuore dai o almeno o almeno la protezione che è il brin che cos'è sassi ecco ora è vulnerabile ovvio non qua e non poteva farlo prima no deficiente e siamo al punto di partenza sessi cavalli senza guarda l'unico che manca è la protezione sul pet di poseidone quindi quindi dai siamo siamo con un punto come se ne fa eh non è così stupido da farne una che vedi comincia a staccarsi comunque io non ho un attacco perché ho paura e aspetate oh benissimo uno è andato eh quindi eh no una due tre e fa fa zone ok guampa pugno caricato pugno la più grande trovata tira un pugno no di bocca ma quanti quanti cavalli ha tre a me sembravano quadro tipo è un misto tra indiana don score ok ora non acquareva un pugno che sfonda la barriera del suono questo è un volo ok e anche questo è risolto e anche questo e anche il posidone l'abbiamo ucciso c'è posidone e posidone no ma quel mucchio di quel che è sì il vero posidone è questo cioè quello Zeus avrebbe dovuto lasciarti al tuo posto esatto non importa quanti dei cadranno ce ne sarà sempre un altro pronto a sfidarti cadranno anche loro non possono essere infiniti la morte dell'Olimpo è la morte di tutti noi sì di voi olimpici io non posso morire tira che i pugni li senti anche li sento anche io ormai no sì vabbè mi sono lasciato distrarre un attimo non so come ho fatto ma ho contraattaccato mi ha fatto un misero danno questo tirano d'estate o cosa ah ah lo sto sbattendo sul ma si tranquillo è morto non serve non serve tutto questo vorresti scappare vero eh che peccato non puoi scappare ora cosa fai ahia ok credo che credo veramente che sia morto adesso meno uno ne mancano altri tanti e ora ha fatto un tsunami solo cadendo ok il mondo è fottuto tutto cazzo tutto inondato qua però eh l'unica che si è salvata è che odo sia venezia o forse neanche mi suona strano questo arrampicazione ma non so perché ora mi sembra troppo facile che arriviamo subito da Zeus lentezza se potrebbe che devia scalare l'Olimpo ma ecco lo qui si ci aspettava ah giusto ci sono anche lei l'Olimpo te è il tutto ottimista come mi hai chiamato ok qua si prepara a fare qualcosa di davvero cazzuto tipo un un semplice fulmine un semplice fulmine tutto qui ah vabbè un fulmine cazzuto ha rotto la monaga e anzi ha spediti sotto l'Olimpo ok era meglio non farlo incattare sta vincendo manco forse una partita io ho salvato i titani per me questa affermazione è davvero stronza e ora dove finiamo ecco abbiamo perso anche la spada ora ma non può andare peggio qua ho vissuto come un guerriero questo è il primo questo è il 2 questo è prima di tutto non lo so e questo è ancora 2 ma sinceramente vuole uscire 2 studiare l'Olimpo per un mucchio di uno e questo è il 2 vi vuole uscire Zeus perché lo ha ucciso e anche se perché lo ha ucciso perché lo ha abbandonato quando era bambino e perché boh non so perché gli olimpici hanno troppo potere non lo so io penso sia così ciò che ma anche se queste anime di merda però non possono andare avanti e farsi i cazzi loro guarda che roba no devono importunarmi ecco ora tutto abbiamo perso proprio tutto a me non siamo ancora vivi no quasi siamo nel regno di morti ma siamo vivi e più il voglio o il regno di Ade cambia a ogni gioco nel più ma era diverso nel 2 anche ma poi dovrà entrare nessuno prima o poi cosa cazzo mi sei mancato scusiamo qua la morte non ferma nessuno cioè è un'olimpica le apparenze ingannano Kratos sì anche i figli dell'olimpico eh sì se ti metti in mezzo è ovvio che ti ammazzo no sì come se ti butti in mezzo la strada è ovvio che ti prendono sotto mentre parliamo la guerra per l'olimpo in Puglia e l'umanità soffre non l'umanità ormai è finita la morte di Zeus è l'unica cosa che conta Zeus non cederà facilmente come Ares per distruggere il re degli dei devi cercare la fonte del suo potere la fiamma dell'olimpo la fiamma dell'olimpo che un tempo ti sacrificasti per salvare Zeus ora cerchi di distruggerlo che cosa ti ha fatto cambiare idea che cosa mi stai sfigliando per il culo mi passi attraverso oh apoi ridono belle ti guideranno nel tuo viaggio verso la fiamma ah beh carina ok ora dobbiamo cercare la fiamma dell'olimpo un'altra cosa da cercare ok il nome dell'esilio mi piacciono andiamo di qua aspettate eh già c'è qualcosa qui forziere una da forziere giù non c'è niente credo qua c'è un ma sì un mole intanto un forziere grande forziere ok ma sono tre sono tre stavolta non più sei per fortuna cosa ma sì tanto io li uso come a rete e muore da lupi non sembra più difficile prema si si sono facili forse ci vogliamo più colpi anche perché abbiamo le spade nuove di zecca ok ragazzi ci vediamo finiamo qui l'episodio ci vediamo al prossimo e continuate a subire grazie a tutti